A me delle questioni giudiziarie che lui peraltro non ha, non interessa niente. Per me il punto è politico e, scusa la parola, a Oxford si direbbe, è un problema di sputtanamento totale. Ma scusa, ma se io fossi un politico cattolico integralista che costruisce tutta la carriera su questo e poi si scopre che mia moglie e mia suocera stampano materiale pornografico, riderebbero tutti. Oppure se fossi un politico che costruisce tutta la sua carriera sui diritti degli omosessuali e poi si scopre che mia moglie e mia suocera stampano materiale omofobo, riderebbero tutti. Ora uno che costruisce tutta una cosa, gli stivali, la lotta, e c'è sta roba qua, quando anche non ci fosse nessun reato, e per me che sono un garantista al momento i reati non ci sono, ridono tutti. Secondo, io più ancora che consuma oro, ce l'ho con quei vigliacchi, politicamente e giornalisticamente, che l'hanno portato in processione e ora sono spariti. Dove sono Bonelli e Fratoianni che l'hanno portato in Parlamento? Dove sono Fabio Fazio che lo ospitava, Marco Damilano che faceva le copertine, quell'altro Zoro che faceva le... l'hanno portato come una madonna pellegrina in giro? Adesso che in disgrazia si girano su Mauro Chi, io, io non lo conosco, bella roba. Terzo, ormai è chiaro a tutti, con l'immigrazione fuori controllo ci guadagnano due categorie. Da un lato, sistema di cooperative eccetera che ce magna sopra, lo disse Buzzi, si guadagna più con questo che con la droga. Secondo, i canali della criminalità, e qui si arriva alle nostre città e smettiamo di ridere, siamo a Milano, io ho conversato con il questore di Milano che è una persona seria, mi ha detto e ha messo per iscritto, tenetevi forte, 75% delle rapine in strada fatte da stranieri, 95% dei furti con destrezza fatti da stranieri. Se vogliamo continuare a negare, a dire che va tutto bene, proseguiamo, secondo me la gente si incazzerà un po'.